Ben ritrovati dalla redazione, un intervento atteso da diversi anni, ora il progetto del comune di Chions è arrivato alla fase definitiva e quindi FWG Strade potrà proseguire con le fasi di appalto della realizzazione dell'opera. La bretella di Chions, il cui costo del primo lotto è di 5,5 milioni di euro finanziato dalla regione, consentirà di sgravare l'uscita dell'autostrada A28 in direzione della circonvaliazione di San Vito al Tagliamento, alleggerendo il traffico locale e mettendo in sicurezza due punti della viabilità che presentano qualche difficoltà. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'infrastruttura e territorio Cristina Mirante, a margine di un incontro al quale hanno partecipato anche i vertici e i tecnici della direzione regionale infrastrutture e di FWG Strade, oltre al comune di Pordenone, che si è svolto nella sede della regione a Pordenone per fare il punto su alcune importanti opere riguardanti la viabilità del Friuli occidentale. Oltre che del progetto della bretella di Villotta di Chions, si è parlato anche della rotatoria prevista nell'incrocio tra via interna, via San Daniele-Saltale-Pontebana-Pordenone e della bretella di collegamento tra l'autostrada 28 e la zona industriale di Valle Noncello a Pordenone Sud. Tra le regioni e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è installata una stretta collaborazione che prosegue nel tempo anche sul territorio. I pompieri hanno giocato un ruolo fondamentale nella lotta agli incendi e in altre situazioni emergenziali, proteggendo costantemente le nostre comunità. Un pezzo dello Stato che non finiremo mai di ringraziare anche per il lavoro svolto nell'ambito del 112 che permette di avere un sistema di sicurezza rapido ed efficace per i cittadini. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, che ha fatto visita ieri al comando dei Vigili del Fuoco di Trieste. Gli allarmi su un possibile ampliamento della capienza del CPR di Gradisca lanciati dai sindacati di Polizia questa volta potrebbero essere davvero fondati. Almeno due infatti gli elementi che sembrano andare in quella direzione. Da un lato il recente completamento dei lavori di sistemazione di dieci camerate all'interno dell'ex caserma Polonio, in pratica una nuova area potenzialmente pronta ad ospitare una quarantina di ulteriori ospiti. Dall'altro l'indirizzo politico adottato in questa fase del Viminale è confermato dallo staff del ministro Piantedosi, che vede con favore il potenziamento laddove possibile dei centri per i rimpatri esistenti, oltre alla creazione di nuovi. La circostanza paradossiale è che il potenziale ampliamento potrebbe arrivare proprio nel momento di massima vulnerabilità del CPR di Gradisca. La struttura per segneri irregolari in attesa di espulsione e rimpatrio è ormai quasi quotidianamente teatro di evasioni tentate o riuscite e tumulti, eppure sembra avere le carte in regola per un potenziamento dei numeri. Comune di Trieste, la delibera del Porto Vecchio, l'opposizione, il progetto di Costim non è di interesse pubblico. La discussione è iniziata con gli interventi dell'opposizione per il consigliere Richetti. Con questo progetto non rispondiamo alle esigenze occupazionali della città, mentre si continua a proporre espansione residenziale di lusso, che non risolve la crisi abitativa dovuta ai prezzi sempre più alti, dando meno spazio all'insediamento delle imprese per far fronte al limitato sviluppo economico della città, rendendola dipendente da un'economia di tipo turistico. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Sulla nostra regione, probabili piogge in genere moderate e abbondanti su bassa pianura e coste, intense dalla media pianura ai monti, molto intense sulle prealpi, specie sulle prealpi carniche, piancavallo, possibili temporali, specie verso sera e nella notte, il passaggio del fronte. Le piogge più consistenti diffusi si avranno dal tardo pomeriggio sera sulla costa scirocco moderato, anche sostenuto in serata tra Lignano e Grado, con possibili mareggiate sulle coste esposte, vento forte da sud anche in quota. Temperature minime in pianura fra 11 e 16, le massime fra 19 e 23 gradi, sulla costa minima fra 15 e 17, le massime fra 21 e 25 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA, FWG, Meteo ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito a più tardi.